Pizzeria da Gigi in via Vigone 34 a Pinerolo Ambiente accogliente dove potrai gustare pizza con ingredienti di qualità Cotte nel forno a legna e potrai accompagnarle con ottime birre Dalla pizzeria da Gigi il coperto non si fa Consigliabile la prenotazione al 393-0165-420 Oppure scrivi un'email a gigidid.iau.it Vieni a trovarci in via Vigone 34 a Pinerolo Pizzeria da Gigi il boss delle pizze al vostro servizio Ortomania prodotti di stagione in via Martiri 21 numero 42 a Pinerolo Da noi solo prodotti di stagione a chilometri zero Prescrezze e qualità sono la nostra forza Chiamaci al 349-356-2422 Ortomania in via Martiri 21 numero 42 a Pinerolo Il chilometro zero lo trovi sempre da noi